hai un dente che ormai è stato dato per perso e quindi è destinato a essere tolto? o magari ti manca un dente proprio in una zona visibile e per te è diventato un problema sorridere? fino a poco tempo fa avresti dovuto affrontare un percorso molto lungo che prevedeva molte tappe prima l'estrazione poi dopo due tre mesi di guarigione l'installazione dell'impianto dentale poi dopo altri due tre mesi ancora la presa delle impronte per avere dopo alcune settimane la consegna del dente fisso insomma una sorta di odissea lunga addirittura un anno oggi fortunatamente nella grande maggioranza dei casi riusciamo a utilizzare una nuova tecnica il carico immediato che ti permette nella stessa seduta di estrarre uno o più denti persi posizionare l'impianto sfruttando lo stesso foro prendere l'impronta con uno scanner ovvero una specie di telecamera che prende le immagini della forma della gengiva dei denti anziché le fastidiosi vecchie impronte con la pasta con il laboratorio odontotecnico in un'ora di lavoro viene realizzata una corona su misura per te che infine ti viene fissato sull'impianto appena posizionato il tutto nella stessa seduta quindi riassumendo un impianto a carico immediato ti consente quindi di posizionare dei denti fissi sull'impianto appena messo è sicuro è duraturo e ti consente di tornare subito a sorridere non ci sono limiti di età e di norma può essere eseguito anche se ci sono problemi di osteoporosi ovviamente tutto ciò è possibile se hai abbastanza osso disponibile un impianto infatti è come se fosse un grande albero può attecchire solamente se c'è tanto terreno intorno hai poco tempo grazie al carico immediato in un'unica seduta trovi la soluzione al tuo problema hai paura del dentista possiamo eseguire gli interventi in sedazione cosciente cioè ti vengono dati dei farmaci che ti tolgono ansia e paura e ti danno uno stato di completo relax hai paura di sentir male oggi è difficile anche sentire il pizzicotto del lago questo perché prima di partire ti verrà data una crema pre anestetica cioè una sostanza che ti va ad addormentare la gengiva al termine dell'intervento ti verrà dato un buon antidolorifico che ti permetterà di affrontare tranquillamente le ore del decorso posto operatorio